Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu, eccoci qui con Supercastelvania 4, qui intanto ci ha dato una degna accoglienza al cavaliere, quello lì cosa fa con la lancia? Niente, questo invece fa un po' troppo il furbo, pensa di essere il padrone del castello quando invece è solo un servo, ma si prendiamolo, dunque, oh c'è il tomberi, è andato a quel paese. Avanziamo con cautela, come al solito, perché qua c'è un agguato in ogni posto. Chi è ha? Eh, si è avvicinato troppo questo. Tanto comunque qua di medikit ce ne sono. Ok, questi li posso prendere. Maledetto, mi ero abbassato e non l'ho fatto in tempo. Vediamo questo che avanza, silenzioso, come un fantasma. Vabbè, quello sta lì. Quello si è già rifatto. Dunque. Vediamo un po'. Ah, è sparito, o l'ho ucciso, forse quel cavaliere. Eh, forse sì. Uh, attenzione al tomberi. Oh, c'è crepato. Eh, comunque, rispetto all'altro livello, è già più tranquillo. Maledetto. Questa me la segno. Tiè. Non te l'aspettavi, eh? Non è che hai solo tu l'ascia. Yeah, moonwalk. E guardalo. Ok, allora, qua mi conviene cadere giù. Faccio prima, mi evito tutti. No, perché poi si fa in fretta essere feriti. Attenzione, qua. Ma, siccome sono già stato ferito prima, vorrei evitare di essere ferito ulteriormente. Vabbè che questi li posso anche evitare, boh. Buonanotte. Facciamo che fare così. Ah, un cuore è andato. Attenzione a questo. Si è messo proprio qua e... Ecco. Ok, via. No, anche questi si rialzano. Sono pericolosissimi queste circostanze. Via. Ok. Perfetto. Salvo. Per adesso. Eh, adesso qua si fanno interessanti le cose. Eh, guardali, guardali. Questi maledetti. Oh, e guarda questo. Uh, il pollo. Aspetta, devo assolutamente prendergli. Ne ho sto cane qua. Cosa fa? Se ne va a spasso allegramente. È sparito. Sei andato a fare una passeggiata. Maledetto. Mi stava per fregare. Questo lo distruggo. Ancora mi lancia le cose. Appunto. Maledetto. Tu e tutti i cavalieri del castello. Io vi maledico. Eh? Eh, avete visto? Chissà cosa sarebbe successo lì. Io se riesco... Oh, hai finito. Ma lo puliscono qua al castello. Nascondono solo le cose sotto al tappeto. Sti zozzoni. No, ti ho distrutto. Per sempre. Sparisci dalla faccia della terra. Disgraziato. Ma di là non ci vado, va. Hmm. Eh, questo non me la conta giusta, infatti. Però intanto c'è l'appollo. Questo mi distrugge tutte le cose, sto cane. Infernale. Vediamo se riesco... Ok. È andato pure lui. Occhio ai pipistrelli che quando ci sono sti quadri qua... Uh, l'ombrico. Me ne vado, via. Che mi sta pure laggando tutto qua. Via. Ah no, non è di qua che si va. Sta esplodendo. Non ci arriva lì. Chi è? Tanti cuori. E guardalo. Bene. Prendiamo tutto. Bene, allora qui bisogna stare solo attenti. Facciamo così. Tanto se vado... Eh, infatti, così posso andare tranquillo. Alla Roberto Benigni. Beh, magari posso andare un po' più veloce adesso. Attenzione qua. Occhio. Prendiamo qua i punti. Perfetto. Eh, devo solo stare attento a non raccogliere i coltelli, per sbaglio. Uh. Aspetta, che qua... Non mi piace. Facciamo così. Dai, che ti manca un colpo. Ok. Uno è andato. Eh, l'altro mo... Teh. Faccio così. Oh. Buono. Maledetto, mi stava per fregare. Ah, il pollo... Adesso non mi serve. Porca di quella miseria, mi ha portato sfiga. Eh, mi sa che qua... Sì, siamo arrivati. C'è il boss. C'è il cavaliere. Dove va? Ma guarda, ti distruggo tutto. Ho fatto pure no damage. Yeah! Sempre con grande stile. E abbiamo finito anche lo stage 7. Sì, siamo arrivati. Sì, siamo arrivati a nata. Ah, è tutto. Ah, è tutto. Sì, siamo arrivati a nata. Non growzati a nata. Non giusto. Non ho sentito. Si so è visitato. No mi carriage. No no no. qui adesso devo stare attento innanzitutto a sto ragno che è una conta giusta e adesso qua ci sono queste trappole non so se passare perché si può pure passare sopra però vabbè facciamo così maledetto vabbè andiamo occhio alle gocce acide maledizione questa pianta cosa vuole fare e guarda l'occhio l'occhio di sauro ma porca miseria facciamo così ah t'ho distrutto qua non c'è niente allora occhio qua allora occhio ti distruggo ti faccio sparire dalla faccia della terra l'hai fatto perdere i punti ma non importa lo facciamo così ah è morto ok e adesso qua si faranno interessanti muori perfetto un altro occhio di sauro ma mi controlla ah è andato adesso qua devo stare attento perché c'è l'acido poi ci saranno gli occhi ok qua sono al sicuro più o meno uh c'era il pollo vabbè non importa aspetta qua conviene fare così ne troverò altri di polli non ho molte munizioni eh devo ricordare ecco parli del diavolo mi spuntano le corna facciamo così ok mi conviene passare sopra fare così eh qua adesso allora facciamo così saltiamo qua poi l'occhio qui conviene eliminarlo perché sennò mi inseguo fino all'inferno intanto mi spara proprio nei punti più strategici sto disgraziato qua adesso devo passare in fretta via ok toh ti ho distrutto maledetto eh conviene aspettare un attimo qua oh occhio che mi spara olè ti ho fregato qua bisogna stare attentissimi diciamo diciamo uh no ma ha preso proprio lì però l'ho distrutto va bene lo stesso va bene lo stesso anche se ha preso l'acido però adesso qua non so se ci sono altri pipistrelli ma forse no ah sono arrivato alla fine dunque aspetta il pollo ah meno male qua i pipistrelli ti rovinano sempre la festa dunque adesso qua mi conviene passare in fretta con il boomerang toh ti ho fregato non te l'aspettavi eh maledetto pipistrello e qui adesso si fanno davvero interessanti le cose perché qua non attrapolò ogni punto maledetti non c'è anche fare così uh le meduse se non le sopporto no passiamo a destra con la move walk e guarda questo ok no 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 vai giù non ci pensare neanche ad andare su ok eh adesso qui devo stare attento perché appena sfioro quei cosi ma forse devo andare di sotto ma forse mi posso buttare lì a destra proviamo che sfiga vabbè va bene lo stesso non è che c'è un pollo qui cos'è che strigge c'è qualcuno che frigge guarda questo come sale ehi allora via ma sembrava difficile però non lo è per fortuna sono invincibile e muori sei così legato a questo posto ti piace così tanto dunque vediamo adesso ah sì sì questo è un pezzo divertente mi conviene saltare di là appena riesco perfetto che sfiga sti cacchio di scheletri sono sempre dovunque ma dimmi te non ci muore oh finalmente è crepato via ok ah ancora l'occhio sauro non mi controlla eh mi devo sbrigare perché ho poco tempo devo fare come se fosse in punizione come si faceva una volta a scuola in ginocchio sui ceci ma il tempo mi dovrebbe bastare giusto giusto forse ho perso un po' troppo tempo prima però siamo quasi arrivati dunque appena si materializza ok 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 sono passato eh perché non era un punto tanto facile questo siamo arrivati qua c'è il boss qui c'è il mostro di Frankenstein che cosa ci fa qui da dove è uscito yeah bene allora io mi fermo qui vi ringrazio a tutti per aver seguito questo video spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo episodio di Supercastelvania 4 alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Autore dei sorrisi